Il corso di formazione Heart Rate Variability dalle evidenze scientifiche all'applicazione pratica fornirà al terapista le conoscenze necessarie per utilizzare l'HRV e per poterne interpretare i dati facendo riferimento a solide evidenze scientifiche. La misurazione della Heart Rate Variability fornisce informazioni molto utili per tutti coloro che hanno a che fare con la salute e il benessere. Misurare l'HRV infatti consente di ottenere in maniera rapida e non invasiva informazioni obiettive sullo stato di salute della persona come ad esempio il carico allo statico e la resilienza nei confronti dello stress e della patologia. Questo consentirà di misurare la salute della persona in maniera più profonda rispetto ad esempio alla valutazione dei sintomi o della patologia per cui il paziente viene in studio da noi. Come vedremo nel corso la misurazione dell'HRV risulterà particolarmente utile nei pazienti complessi, quei pazienti con situazioni di multipatologia ad esempio. In questi pazienti grazie all'HRV sarà possibile misurare da una parte il livello di compromissione della salute ma soprattutto saremo in grado di predire le nostre possibilità di intervento su quel paziente e facilitare il riconoscimento di situazioni che necessitano di un lavoro multidisciplinare e integrato. I terapisti inoltre saranno in grado di misurare l'effetto del loro intervento sulla fisiologia del paziente, inoltre potranno valutare nel tempo l'andamento dello stato di salute della persona. Il corso di formazione risulterà però utile anche per le figure non strettamente sanitarie come ad esempio allenatori e personal trainer. La misurazione dell'HRV infatti permette di valutare le condizioni psicofisiche dell'atleta e il rischio di andare incontro a situazioni di sovraccarico, pertanto potrà essere utilizzata per individualizzare gli allenamenti di ciascun atleta.